Ciao, sono Luca di Mr. Gadget, buona giornata, bentrovati, voglio raccontarvi le mie prime 24 ore con iPhone XS Max. Allora, questa è la versione rinnovata di iPhone X, arriva sul mercato a 1.289 euro, nella sua versione più grande, quella da 6,5 pollici, arriva addirittura ad un whopping, come dicono a Brescia, prezzo di 1.680 euro per la versione da 512 giga. C'è anche la versione più piccola, con il display da 5,8 pollici, parte da 1.189 euro, con tutti i tagli di memoria che noi conosciamo. Ma questo telefono, insomma, che cos'ha essenzialmente di nuovo rispetto al modello precedente? Beh, insomma, andiamo a vedere un po' da vicino anche che cosa cambia. Dal punto di vista estetico non è difficile notare come essenzialmente non cambia quasi nulla, no? Se non questa diagonale enorme del display, vediamo come è messo rispetto al Galaxy Note 9, no? Per darci un'idea delle dimensioni, 6,4 pollici, siamo invece a 6,5 pollici. Peraltro, ecco, bisogna notare, secondo me, un dettaglio, no? Cornici veramente ridotti al minimo, il famigerato notch che noi ormai conosciamo. Sulla parte inferiore, il tratto con alto parlante e con il microfono, curiosamente, non sono più simmetrici. Da una parte ci sono più buchi che dall'altra, mentre in passato erano al 100% simmetrici. Attacco per lightning port, su un lato il controllo del volume, detto anche volume rocker, l'accensione e spegnimento delle suonerie. Dall'altra parte, invece, come ormai siamo abituati a vedere, il pulsante di accensione e poi il cassettino per la nano sim. Questa è la versione oro, in realtà una tonalità di oro molto gradevole da vedere, rifinita poi, tra l'altro, anche dal frame che richiama lo stesso colore del telefono. Cosa colpisce di più utilizzando questo smartphone? Allora, sono due cose, e vi dirò due cose proprio velocissime, poi ci ritroviamo per la recensione completa quando sarà il momento di vederla. Allora, intanto la qualità del display che è impressionante per la tonalità, la profondità dei neri, ma un'altra delle cose impressionanti, purtroppo, noi non possiamo provarla perché registriamo queste recensioni in mono, ci attrezzeremo anche per l'ascolto stereo. Ecco, una delle cose che fanno impressione quando sono viste da vivo, noi purtroppo non possiamo gestirlo. Ascoltare il test stereofonico del display è impressionante perché la separazione stereofonica è pazzesca. Se utilizzerete il telefono per la riproduzione di contenuti multimediali, devo dire che in questo senso il miglioramento, cioè l'avere un iPhone con un display così grande, fa essenzialmente la differenza. Molti di voi mi chiedono, ho un iPhone 8 Plus, è il caso di fare l'upgrade? Allora, quello lo potete scegliere solo voi, avete voi sotto mano le vostre finanze, potete scegliere solo voi come spendere il vostro denaro. Se mi chiedete invece se valga la pena da un punto di vista prettamente tecnologico l'upgrade da iPhone X e da iPhone 8 e 8 Plus a questi nuovi modelli, beh diciamo che c'è il passo incrementale di un anno di tecnologia, ma sicuramente non un salto in avanti. Ma se qualcuno di voi ha un iPhone 6, un iPhone 6S, già con il 7 si comincia a vedere una differenza fondamentale, beh insomma qui si va veramente su un altro pianeta, no? In realtà aumentata molto più potente. Tra l'altro ecco c'è un dettaglio difficile da mostrarvi, magari cercherò qualche video che lo faccia, con la realtà aumentata voi avete la possibilità di riconoscere le superfici in modo molto più semplice e ci sono dei giochi da utilizzare molto immersivi davvero fantastici. Altro dettaglio che vi sottolineo è la fotocamera. Allora, fotocamera apparentemente non è cambiato niente, no? Un doppio sensore da 12 megapixel, uno con una profondità di 2,6 mm, l'altro da 5,2 mm, con quindi diciamo il telefoto, il teleobiettivo con la capacità di riprendere le cose che sembrano più vicine. Però qui c'è anche una novità importante, si chiama Smart HDR e guardate che la differenza che viene fatta da questo Smart HDR è assolutamente totale. Io ieri, poi ve la mostro anche in real time, ho fatto questo scatto completamente contro luce con la modalità ritratto, è vero che c'è questa difficoltà nello scontornare perché mi ha messo un po' di aureola, ma probabilmente perché conosce il mio grado di santità elevata. Vedete, nello scontornare qui c'è leggermente l'effetto aureola, ma è impressionante la capacità di leggere l'immagine nel momento in cui viene scattata anche una foto completamente contro luce. Tenete conto che vengono scattate molteplici frame della stessa immagine e poi viene scelto quello con l'esposizione migliore, tutto questo rigorosamente in tempo reale. Devo dire che la fotocamera, tra l'altro in questo caso vediamo la fotocamera frontale in funzione, con questo tipo di modalità è veramente impressionante. Torneremo con una recensione più completa, un po' più avanti per raccontarvi tutto di questo iPhone XS Max. La batteria mi pare di buona capacità, ieri si riscaldava molto nella fase delle varie prime sincronizzazioni e si scalda molto anche in fase di riscaldamento wireless. Devo vedere se sia una cosa permanente o solo magari delle prime ore, momento in cui magari con tutte le varie sincronizzazioni il processore è un po' messo a dura prova. Vedremo nei prossimi giorni come si comporta, qual è il funzionamento della batteria, quali sono le caratteristiche peculiari di questo smartphone per decidere se rimane il re del mercato o se ci siano alternative più valide da acquistare. Ci ritroviamo nei prossimi giorni, se ne avete acquistato uno voglio il vostro parere. Ci ritroviamo nei prossimi giorni, se ne avete acquistato uno voglio il vostro parere.